Ciao! Breve introduzione all'europeo. Si parla di nazionale. Noi siamo in gruppo C, insieme a Grecia, Estonia, Ucraina, Gran Bretagna e Croazia. Sono sei squadre e ne passano quattro. Le prime quattro. Il calendario prevede 2 settembre contro l'Estonia, i 3 settembre contro gli Annis, i 5 contro l'Ucraina, i 6 contro la Croazia, l'8 contro la Gran Bretagna. Al termine di questa prima fase a Gironi, che tra parentesi lo sapete benissimo si gioca a Milano, le prime quattro classificate di per l'appunto accedono alla fase eliminatoria. Si trasferiscono a Berlino e li giocano a partita secca. Gli accoppiamenti li vedete qui. Da tenere d'occhio sono i C, quindi C1, C2, C3, C4. Significa che noi ci si accoppia con i Girone D. Se si passano i Girone D ci sono Olanda, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Israele e Serbia. Il tutto per andare poi dritti fino alla finale di 18 settembre. Non c'è bisogno che vi dica che li seguiremo chiaramente qui sul canale, in diretta, su Twitch e solite cose. C'è invece bisogno, forse, che vi dica perché questa introduzione di questo video di Mercato di Serie A è stata dedicata all'europeo. Perché so ai mare. Petrucci e Gandini, dico, secondo me so ai mare perché non hanno detto niente. E qui la cosa è drastica perché comincia a mancare, comincia a venire meno, capito, il materiale. Quindi io vorrei anzi sfruttare questa occasione per fare un appello accalorato a nome di tutti i canali. Tornate, rientrate. Noi ci basta anche, si fa un collegamento così, come siete messi, capito, con l'infradito, con lo spritz in mano. Va bene uguale. A noi ci va bene, siamo disposti a fare qualsiasi cosa. Si fa la riforma di torneo di racchettoni, si fa un piano triennale proprio bello, un tavolato tutto di legno davanti ai barre che non ci si bruci i piedi con la sabbia. Si fa quello che volete, qualsiasi cosa. Si vende diritti televisivi all'omino di cocco bello, si fa polemia contro quelli di bagno accanto se non ci danno giocatori meglio per la nazionale. Quello che noi si fa... però tornate, perché se no, io ho bisogno che lo dica, c'è il rischio che questa possa diventare una rubrica seria. Lo devo dire, c'è questo rischio. Tabellone. Eh, si comincia adesso un pezzo in là, eh. Ci sono diverse squadre che ora hanno finito con questa puntata qui in particolare. Un po' di gialli ci sono ancora, ora si guarda. Reggio Emilia, manca un vice, Cinciarini è tutta l'estate però che manca, quindi non è detto che arrivi in tempi brevi. Sono stati aggiunti questi due giocatori qua che sulla carta sarebbero soltanto quei precampionato. Ma in queste situazioni di solito non vorrei che alla fine della fiera soprattutto lui dovesse rimanere. Non lo so, vediamo, vediamo. La cosa positiva è che nel frattempo è arrivata la firma anche pluriennale di Michele Vitali. E' buono, lasciamo perdere le ultime esperienze, ricordiamo sì il Michele Vitali di Sassari perché qui troverà un ambiente simile. Gran bella firma. Trento, manca un esterno, con punti nelle mani, ci ha tenuto a specificare Lele Molin. Quanti punti nelle mani? Bisognerebbe che ne avesse tanti, cioè ci vorrebbe Tony Mitchell, eh? Si può riavere Tony Mitchell, però per ora non ci sono particolari nomi a riguardo. Io spero che possa essere titolare facendo partire Locket dalla panchina, eh? Questo. Pesaro è arrivato, Cittam, cioè nel momento in cui è circolata la voce che Pesaro fosse su un 4 di, diciamo, proveniente dall'est Europa, è arrivato l'Ameriano. Ehm, ma, è stato detto che è all'apice della carriera e che quindi è ammesso su il tiro da 3. Boh, a me non è che mi convinca troppo come firma, se posso dire la mia. E più che altro è che continua a mancare un centro e vista anche la firma del 4, ci vorrebbe un centro buono, ma parecchio buono. Ma anche meglio di Tyrick Jones, se possibile. Sempre ammesso che tra questi due si tiri fuori un play, vero, eh? Bologna. Di fatto, con Leo Menalo, la squadra è finita lì. Giovane comunque di belle speranze, eh? A parte tutto. Se ne è andato ufficialmente Ceron, e quindi ci sono un pochino meno giocatori, però questi dovrebbero effettivamente rimanere tutti, compresi questi due che non mi ci sono entrati nella tabella, compreso Nico Mannion, che addirittura dovrebbe prolungare il contratto. Napoli, firmato dell'osto, molto elogiato da Maurizio Buscaglia, so curiosissimo di vedere come lo utilizzerà all'interno della squadra. Manca un 4. In realtà c'era, è perché era Parks, però è andato via, e quindi manca un 4. Vediamo uno dei quintetti sulla carta più atletici di tutto il campionato. Trieste. Trieste è tutto fermo a dove si era lasciata una settimana fa. È stato fatto il nome di Frank Gaines. Non lo so se sarebbe effettivamente il giocatore giusto da mettere qui. Io continuo a vederlo più guardia e non alla piccola, però quello lascia un po' il tempo che trova. Lui porterebbe sicuramente dei punti e questa squadra di punti ha bisogno, però ha bisogno anche di un centro e ha bisogno più che altro di firme che arrivino in tempi rapidi, perché è una di quelle che al momento è forse più indietro, vista l'accelerata delle due neopromosse proprio nelle ultime ore. Milano. La squadra è questa e l'ultimo giocatore è questo. C'è un po' di problematiche dai punti di vista burocratico, lo svincolamento da Mosca, si aspetta la FIBA, altrimenti si agirà per altre vie. In ogni caso Voigtman sarà a Milano. Probabilmente si dice che l'ufficializzazione potrebbe arrivare intorno alla metà di settembre addirittura, quindi un po' in là, però non ci dovrebbero essere problemi. Brindisi, un po' a sorpresa, è arrivato di Hembe Dixon. Lo so che qui c'è Barnell e che Dixon partirà dalla panchina, ma io l'ho voluto momentaneamente mettere qui da un punto di vista simbolico per far capire che è buono, quanto in realtà è buono. Secondo me questo per il nostro campionato è veramente buono. Ora, a parte tutto e i discorsi, manca un play, non sarà Payton Siva, si lavora Darius Thompson, ma è complesso il ritorno di Darius Thompson. E poi i dieci sono finiti qui senza DiAngelo Harrison. In più c'è DiAngelo Harrison, sul quale non mi ripeto perché già sapete la questione, se ne parla da settimane. Varese. Varese è ufficialmente, con la firma di Jaron Johnson, che è una buona firma, è un buonissimo giocatore per il nostro campionato, però Varese diventa ufficialmente la Trento di 2023, cioè la squadra che io non ho capito. Io i quattro ci ho messo Reyes e Ferrero, perché lo sono un pochino di più rispetto a Johnson e Volde Tensai, ma nessuno dei due è un quattro. Quindi questa squadra non ha quattri, c'è due centri e poi c'è una serie di esterni che si alternano a giocare da quattro. Magari, oh, è la nuova tendenza della pallacanestro di 2030 e si scopre degli avanguardisti, però io un po' di scetticismo lo nutro, se possibile. Verona. Verona ha chiuso i conti con la firma di Ferrari e soprattutto i due lunghi, Smith e Olman, che sono molto particolari come tipologie di giocatore, perché di fatto sono due che possono tranquillamente, io l'ho messo così, ma possono tranquillamente scambiarsi di ruolo, perché Smith è un 5 ma è basso, Olman è un 4 ma è alto. È una squadra interessante, con tanti interrogativi, come è normale che sia per una neopromola, mossa, nel primo focus si parla di Selden. E ha chiuso la squadra anche Scafati, a proposito di neopromosse. Doron Lamb, già visto tra le altre a Pesaro in Italia, però Trevor Thompson, che mi piace molto e che sarà il protagonista del secondo focus di questo video. Di questi 5 americani da quintetto, ne adoro 4, ho dei dubbi sull'Emb, però per essere una neopromossa va benissimo. E qui veniamo al primo focus, nuovi volti di questo video, Wayne Selden, Verona. Guardia, la classe 1994, 27 anni, nativo di Boston, 196 cm per 104 kg, non è stato scelto al draft NBA del 2016. L'ultimo anno al college, 14 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, poi la G League e più di 100 partite in NBA. Con Perison mi viene in mente, per i più anziani eventualmente all'ascolto, una specie di Travis Mace. Questo è vecchio, Travis Mace. Però rispetto a lui è un pochino più piazzato a livello fisico. Chiaramente da un punto di vista banalmente di struttura fisica e di talento tra gli esterni del nostro campionato, e questo è uno importante, cioè questo fa la differenza, sulla carta in meno questo fa la differenza. Ripeto, fisico, atletismo e talento barra punti nelle mani. I contro della situazione sono che però ogni tanto nel corso della sua carriera mi ci sei un po' troppo innamorato di tutto questo talento, cioè mi sei un attimo guardicchiato troppo allo specchio. E c'è delle volte che si incaponisce a tirare da otto metri che ne manco Tony Mitch, capito? E quello è un po' un rischio, perché poi tutto l'attacco eventualmente della squadra, essendo lui chiamato a essere probabilmente il principale terminale offensivo, mi prende una deriva, no? Un attimino preoccupante. In questo senso l'interrogativo è con quale testa arriva in Italia? Come lo considera da un punto di vista del percorso della propria carriera? Cioè una tappa evolutiva o vengo stia a mangiare il panettone e poi si sta... Questa è un po' una domanda. Sui giocatori però grossi dubbi non ce n'ho. E poi, da neopromossa a neopromossa, Trevor Thompson, scafati. Centro, classe 1994, 28 anni nativo di Indianapolis, 213 centimetri per 113 chilogrammi, non è stato scelto al draft NBA del 2017, ultimo anno al college, 11 e 9 rimbalzi con due stoppate in 23, 23 minuti di impiego a partita. Ve lo ricordate, Sharrod Ford? Ecco, Sharrod Ford, anche proprio da un punto di vista di postura, è uno che è sempre tutto impettito, abbia un goiato, una pala e rimane tutto, no? E è arto, ma aiuta, ma di arto. Cioè per il nostro campionato veramente non finisce mai. E a livello fisico questo è un vantaggio importante, anche perché poi c'è un'altra caratteristica che a me proprio mi garba da impazzire. Cioè non è che ti cerca l'appoggino, è arto e ce la mette con le mani, va su cattivo. Cioè è uno di quelli che non sente troppe storie. Questa cosa mi garba tantissimo anche perché non gliela puoi insegnare ai giocatori. Cioè o ce l'hanno la cattiveria in questo modo qui o non ce l'hanno. I contro sono che, in quanto molto alto, non si accoppia benissimissimo con tutti i quintetti avversari, perché ci sono dei quintetti magari particolarmente rapidi e anche bassi di small ball in cui fa un po' fatica. Qui dovranno essere molto bravi nella gestione del coso. E anche dal punto di vista del minutaggio non è praticamente mai in carriera stato abituato a giocare tanti minuti quanti probabilmente gliene verranno chiesti a Scafati. Questo qui forse può essere l'interrogativo. E basta. Ora, il mercato è quasi finito. L'avete visto da voi, ci sono poche squadre di fatto che ancora devono aggiungere qualche cosa. Per cui non lo so. Sicuramente settimana prossima ci sarà un altro episodio. Potrebbe essere l'ultimo se le squadre di qui e settimana prossima saranno praticamente tutte finite. Hai massimo un altro, ma non credo si vada troppo oltre. Magari, se si vede che ci rientra bene, si possono fare degli episodi solo di focus sui nuovi giocatori, che lì ce n'è ancora tanti da... Un lo so, come sempre. A fine estate non si sa mai che viene fuori. Poi c'è la nazionale, poi c'è il ranking, poi c'è... Ma a settembre mi viene un capo come un cestello. Tutti l'anni a me. Prossima volta bisogna allontanare il microfono, perché così poi ho il grande fratello. Grazie. 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 Grazie.